Sono Luca Provezza, ho 33 anni, sono laureato in Ingegneria Meccanica dei Materiali. Ho iniziato questo percorso di dottorato in meccanica applicata con il gruppo di misure. Il problema da cui siamo partiti in questa borsa di dottorato riguarda la manutenzione predittiva. Il problema delle macchine di pressocolata era fondamentalmente quello che i componenti a bordo di questa macchina si rompono molto spesso e i macchinari vanno in stop produzione. Per questo motivo l'azienda che ha sponsorizzato il dottorato vorrebbe applicare del machine learning con i segnali registrati a bordo macchina per poter cercare di capire preventivamente quando è che un componente va in fault e quindi ordinare in tempo i componenti per evitare stop di produzione.